Con noi Fabio Di Gaetano, presidente della Whitehall Factory qui a Nereto. Allora, abbiamo parlato dell'importanza di far ripartire l'economia dalla cultura. Lei ha fatto un discorso molto articolato, spiegandoci un po' come può ripartire il sistema Italia. Sì, uno dei punti sui quali dobbiamo assolutamente impostare il discorso di crescita è il discorso culturale, perché fino adesso purtroppo si è passata per l'opinione pubblica, ma soprattutto per il discorso politico, il messaggio che con la cultura non si potesse mangiare. Invece noi non sappiamo se potremo mangiare con la cultura, ma senza sicuramente non avremo un futuro. Quindi dobbiamo ricominciare come associazioni, come privati cittadini, a diventare una sorta di motore, di propulsore per la crescita economica, culturale e civile del territorio. Dove non possono arrivare le associazioni pubbliche e dove non possono arrivare più i fondi dei privati, dobbiamo essere noi cittadini ad accollarci l'onere e il piacere di far partire il messaggio della cultura quale motore di crescita. Lei ha fatto l'esempio di grosse compagni che lavorano sul bene immateriale, ma lavorano ovviamente anche sul know-how, che sono partite da grossi investimenti, ma sono partite da idee. Sicuramente siamo nell'era dell'economia delle idee e un'idea che si possa nascere in un ambiente giusto può veramente trasformare il mondo, può trasformare il modo di fare economia, può trasformare il modo di fare produzione, ma può trasformare anche il modo di vivere. Perché se voi pensate a quello che è successo da 15 anni a questa parte, vi rendete conto che è cambiato praticamente il mondo al quale ci eravamo abituati. Quindi noi dobbiamo fare lo sforzo di capire qual è il mondo che ci aspetta, dobbiamo fare lo sforzo di immaginarlo e dobbiamo fare lo sforzo di crearlo. Si pensa che l'Abruzzo sia un po' immaginato, un po' fuori dai grandi crocevia culturali europei e internazionali. Come si fa a diventare, come lei ha detto, il nuovo hub della cultura? Sfruttando l'economia della rete, che non significa semplicemente l'economia del web, ma l'economia della rete di conoscenze nazionali e internazionali. Infatti oggi, grazie al web soprattutto, è possibile venire a contatto con le migliori menti che l'Italia ha a disposizione, ma che l'Europa e il mondo hanno a disposizione e senza investire grosse somme è possibile creare una specie di cenacolo. Guardate che parliamo di Abruzzo in termini negativi, ma se noi pensiamo a quello che ha fatto neanche un secolo fa, cent'anni fa, il nostro conterraneo Gabriele D'Annunzio, quello che era riuscito a fare a Roma con il suo cenacolo di artisti e di autori, aveva portato effettivamente l'Abruzzo al centro della cultura italiana, nazionale e anche europea, perché quando andò a Parigi tutti erano innamorati di Gabriele D'Annunzio. Ora, non vogliamo essere peccare di presunzione, però l'idea di creare un hub è un'idea che può riuscire, che può funzionare, perché abbiamo tutte le competenze, abbiamo tutte le qualità per poter emergere, per poter fare qualcosa di veramente importante. Almeno questa è la nostra aspirazione, queste sono le nostre aspettative. Torniamo a parlare con Mariano Muroni, reduce da vari premi, mostre internazionali, la sua doppia attività di designer industriale e di artista. Che effetto vuole far tornare oggi qui a Nereto, nel suo laboratorio, nella sua terra, a far rivedere un po' il suo percorso artistico e anche a rincontrare i vecchi amici? Per me oggi è un evento davvero importante, che vede realizzarsi un sogno pensato nel 2008, quando ho progettato questa struttura che doveva ospitare le mie attività. Naturalmente è stata pensata questa struttura anche come spazio che potesse avere relazione con il territorio, non solo il territorio della Val Vibrata, ma anche il territorio regionale e nazionale. Oggi vi è questa possibilità perché insieme a un gruppo di giovani abbiamo pensato di realizzare un'organizzazione, di costituire un'associazione no profit, che avesse come missione la cultura in senso generale, con particolare riferimento alle arti visive, ma anche con un occhio attento a quello che è il mondo della formazione e quindi una grossa collaborazione con il mondo imprenditoriale. Parliamo un po' del suo percorso artistico, nuove opere, nuove mostre in giro per il mondo. In che direzione va la sua arte? Si reinterpreta sempre la materia che nasce, che sgorga, ma spesso viene messa da parte dal mondo industriale, per dare un insegnamento, una lezione particolare? L'arte visiva non ha confini. Per quel che mi riguarda attingo dalla realtà del mondo degli oggetti, dal mondo delle cose. Diciamo che l'oggetto trovato è quello che mi dà lo stimolo e lo spunto a realizzare nuove opere. Spesso non è monitorabile. Tutto quello che si fa, tutto quello che un artista fa, spesso è non sempre decifrabile. Ma sicuramente gli artisti sono dei medium della realtà storica che stiamo vivendo. In questo momento mi interessa creare una forte suggestione allo spettatore. Le opere devono avere la capacità di influenzare lo spettatore. Questo è quello che, diciamo, nell'ultimo periodo soprattutto sto portando avanti. Ma, ripeto, l'attività di un artista non è sempre catalogabile. Attinge da quella che è la realtà. Lo sforzo è di essere artisti del nostro tempo, cioè riuscire a rappresentare la realtà contemporanea che noi viviamo. Siamo con Giuliano Di Flavio, primo cittadino di Nereto. Torna dopo 40 anni Mariano Moroni a disporre nella sua città, in questo fatto, in uno spazio straordinario. Che cosa ha provato oggi a presentare un artista apprezzato, diciamo, più all'estero che in Italia? Oggi per Nereto, per il mio paese, è sicuramente una giornata di festa. Un po' c'è il ritorno del figliolo prodigo, cioè di questo artista Mariano Moroni, amico e collega, che dopo tanti anni finalmente torna ad esporre a Nereto dopo aver avuto successi in tutta Europa, in tutto il mondo. Ripeto, è una giornata di festa perché noi dobbiamo mirare tanti artisti neritesi che non hanno avuto negli anni fortuna proprio nel loro paese. Ce ne sono stati nel secolo scorso, ce ne sono stati nei decenni passati, ce ne sono tanti oggi. Noi come amministrazione vorremmo che tutti quanti questi artisti, nel campo delle arti, nel campo della musica, nel campo del cinema, possano tornare a Nereto, ad operare a Nereto. Mariano è uno dei primi che torna a fare la sua attività nel suo paese. Questa factory si presenta come un hub della cultura per attrarre intelligenza e far ripartire l'economia, non dall'industria come solitamente si pensa, ma proprio da fenomeni culturali. Oggi c'è stata fatta, io l'ho definita, una lezione per un'amministrazione, una giornata di grande crescita per noi amministratori. Questo che è stato lanciato, l'idea del hub culturale a Nereto, è un'idea che assolutamente va ripresa, va innaffiata alla radice e va fatta crescere. Noi dobbiamo essere pronti come amministrazione a raccoglierne i frutti. Siamo spalleggiati da persone molto valide, parlo di Fabio Di Gaetano, dallo stesso Mariano Moroni, che sono le anime di questo rinascimento della cultura a Nereto, in un momento in cui veramente le amministrazioni fanno grossa difficoltà a seguire, ad incentivare la cultura. E allora l'impegno di tutti, amministratori, associazioni, artisti, singoli cittadini, persone di buona volontà, tutti insieme possiamo creare una massa critica, creare un sistema. Sistema che possa riportare la cultura non ad essere un aggravio per le amministrazioni, ma ad essere appunto fonte di crescita economica e culturale. Italo inglese, scrittore e giornalista, che impressione ha avuto di questa inaugurazione? Un luogo con delle ambizioni molto particolari, che partono da un territorio piccolo. Io vorrei innanzitutto ringraziare Vincenzo Centorame, che mi inizia a queste scoperte in Abruzzo. Grazie a lui io ho fatto delle belle scoperte, questa è sicuramente una di queste. Si tratta di un luogo che nessuno si immagina come luogo di arte, perché è un po' decentrato nella campagna, però questo è anche il suo fascino. Si tratta di una struttura molto particolare, interessante da un punto di vista architettonico, che è in sé un'opera d'arte e che contiene delle opere molto interessanti. Proprio con Vincenzo poco fa si parlava dell'arte povera, e io osservavo che Burri può essere considerato un antisignano. Burri che fu detenuto insieme a Giuseppe Berto e ad altri personaggi artisti e scrittori italiani in un campo di concentramento americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Parliamo anche di Mariano Morroni, una prima impressione su queste opere così forti, così in grado di modificare un po' lo spazio e farci un po' riflettere sul concetto di riciclo del manufatto moderno e industriale. Sì, io vorrei sottolineare, dato che non sono un esperto di questa corrente artistica, non vorrei avventurarmi in affermazioni che potrebbero risultare banali, vorrei sottolineare il cosmopolitismo di questa arte e il fatto che in un piccolo centro come Nereto si può avere l'occasione di scoprire un respiro che va oltre la provincia, diciamo così, e si inserisce in un discorso internazionale che si collega ad altre scuole, ad altri artisti che operano anche nelle grandi città del mondo. Vincenzo Centorame, presidente della Fondazione Michetti, ospite d'onore per questa inaugurazione, quindi riparte un nuovo polo culturale qui in Abruzzo. Beh, ci sono tutte le condizioni e c'è la necessità. Il connubio tra Francavilla e Nereto è evidente, sono due sedi straordinarie di antiche esperienze, come il Cenacolo di Francavilla e il meno conosciuto ma ugualmente importante Cenacolo di Nereto, che aveva come emblema Donna Vinca Sorge e come frequentatori gli stessi amici del Cenacolo di Francavilla che venivano a Nereto per ritemprarsi fisicamente, per fare scorte, per discutere, per discutere di arte soprattutto, di tutte le forme di arti. Ed è importante che proprio Nereto, che era l'antica capitale culturale, non solo della Val Vivriata ma un territorio molto più vasto, diventi nuovamente il centro di propulsione di una nuova iniziativa culturale. Questa Factory, che ha come presidente Fabio Di Gaetano, è che si propone di mettere insieme esperienze artistiche ed esperienze imprenditoriali di assoluta avanguardia. E quindi tutto ciò di cui c'è bisogno. In questo momento l'Abruzzo intero si sta desertificando dal punto di vista industriale e anche dal punto di vista culturale. E quindi sono sempre di meno le risorse destinate alle imprese culturali, all'attività di carattere artistico. E' fondamentale che invece nascono delle iniziative che si propongano di coniugare queste due cose. Tra le altre cose Mariano Moroni torna ad esporre a Nereto con una sua mostra dopo circa 40 anni. 40 anni in cui non è stato dimenticato, ma ha raccolto successi in varie parti d'Europa, anche di carattere internazionale, come quelle relative non solamente alle sue opere d'arte, come nel caso per esempio della notissima esposizione avvenuta a Roma e poi portata in tutto il mondo ad opera del Ministero degli Esteri, ma anche recentemente per il prestigioso riconoscimento che ha avuto in Germania per la sua attività di disegnatore industriale, non dimentichiamolo, recentemente ha avuto anche una menzione d'onore dalla giuria del premio Michetti. Quindi Mariano Moroni continua coerentemente a muoversi nel solco dell'arte povera, anche se è rivisitata, anche se è ricollega per molti aspetti a quelli che sono stati i primi, il nucleo primo degli italiani che aderirono al movimento dadaista e che realizzarono dei paesaggi interiori che oggi sono esposti alla Galleria Nazionale di Roma o a Parigi nei musei pubblici e che lui ripropone in termini, come dicevo, diversi, più contemporanei, ma che sono intitolati, non a caso, fanta paesaggi, perché è l'orizzonte futuro dell'uomo. Se non guarda al futuro in maniera innovativa, in maniera coraggiosa, c'è poco da fare, non ci sono speranze, non solamente per la vita artistica e culturale, ma soprattutto per la vita produttiva ed economica italiana. E le due cose vanno a braccetto necessariamente.